Vi faccio vedere qui l'interno della stanza tutti i vari dettagli e le varie cose, veramente una stanza gradevole sia dalle luci, dai vari dettagli come dicevo, l'oletto spazioso, molto spazio intorno al letto per mettere tutti i bagagli che volete a differenza degli altri hotel in Giappone che spesso purtroppo hanno degli spazi veramente ristretti in cui non si riesce a mettere praticamente niente ovviamente asciugacapelli che non può mancare ma comunque in questo caso mi sono anche un buon asciugacapelli tra l'altro luci gradevoli, bagno molto spazioso, magari non molto spazioso ma comunque spazioso, non la classica unit bus che è presente in molti hotel sapete quella specie di scatola dove lavarsi e fare tutto quanto, qui invece è un bagno diciamo classico, molto gradevole e bello direi ovviamente tutte le varie cose vi volevo far vedere anche l'esterno, adesso è sera, ovviamente all'esterno non, intanto spegniamo un po' di luci con questo ottimo sistema anche qui spegniamo la luce del bagno faccio vedere un attimo all'esterno, tanto per così darvi un'idea di quello che si vede ovviamente non tutte le stanze hanno la stessa vista ma comunque non è male adesso qui vedrete anche il riflesso della tv eccetera però ovviamente siamo in mezzo ai palazzi qui proprio davanti alla zona della stazione di Osaka, la zona nord della città chiaro, a uno potrebbe piacere o non piacere questo tipo di vista, a me piace molto chiaramente perché siamo proprio in mezzo alla vita della città insomma mi sembra una buona soluzione questo hotel El Serano, come avete visto molto raffinato, molto carino, direi decisamente bello quindi cosa dire di più? Direi hotel El Serano, vi ho fatto vedere un po' tutto magari adesso vi faccio vedere anche la vista di giorno e qualcosa qui all'esterno tra poco, ciao!